La domanda per l'inserimento o per l'aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi si presenta online attraverso il portale ministeriale Istanze Online. Non si può più presentare in formato cartaceo. Per accedere al portale basta andare su qualsiasi motore di ricerca, cercare parole chiave come polis oppure istanze online e cliccare sul link riferito al Ministero dell'Istruzione. Per effettuare l'accesso basta cliccare sulla colonna di sinistra su Accedi e effettuare l'accesso tramite uno di questi servizi. Vi ricordo che dal 30 settembre 2021 non è più possibile accedere attraverso username e password. Una volta effettuato l'accesso visualizzerete subito in alto il quadro relativo alle graduatorie permanenti ATA 24 mesi. Cliccate su Vai alla compilazione e in questa nuova pagina su Accedi. In questa sezione bisogna indicare la provincia di inserimento. Vi ricordo che fra i requisiti d'accesso alle graduatorie ATA 24 mesi è richiesto l'essere in servizio come ATA nella medesima provincia oppure l'essere inserito nelle graduatorie permanenti sempre nella medesima provincia oppure essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ma ancora una volta nella medesima provincia. Di conseguenza non è possibile cambiare provincia. Lo si potrà fare l'anno prossimo attraverso l'aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di istituto e quindi poi nel 2025 si potrà modificare anche la provincia delle graduatorie ATA 24 mesi. Cliccando su Avanti visualizzerete i vostri dati personali e cliccando ancora su Avanti accederete alla compilazione dell'istanza. Se vi state inserendo nelle graduatorie ATA 24 mesi per la prima volta dovrete compilare il modello B1. Se invece siete già inseriti e dovete aggiornare il vostro punteggio dovrete compilare il modello B2. Adesso a titolo di esempio compileremo il modello B1. Per farlo basta cliccare su Azioni disponibili e poi su Inserisci. In questa sezione dovrete indicare il profilo o i profili per i quali chiedete l'inserimento. Se ad esempio volete inserirevi come assistente amministrativo basta spuntare il riquadro in corrispondenza di questa voce, indicare il titolo di studio, l'anno scolastico di conseguimento, la precisa data in cui è stato conseguito il titolo, l'istituto, questo il quale è stato conseguito e la sua votazione, indicando anche la base. Questo è importante perché alcuni diplomi sono in centesimi ma altri sono stati invece in sessantesimi. Il campo successivo è relativo a un attestato di qualifica particolare. Se lo possedete compilate anche questo campo, altrimenti andate avanti. Nel successivo campo, quello in grigio, dovrete indicare la specifica modalità con cui state effettuando l'accesso. Vi ricordo infatti che oltre al titolo di studio e 24 mesi è necessario trovarsi in una delle tre condizioni che trovate elencate qui nel riquadro in giallo. Se siete in servizio, dovrete indicare modalità A. Se non siete in servizio ma siete inseriti nelle gradatorie provinciali d'esaurimento, dovrete indicare modalità B. Se invece non siete in servizio ma siete nella terza fascia delle gradatorie d'istituto, modalità C. Successivamente dovrete poi spuntare questa voce in quale dichiarate che avete maturato i 24 mesi. Una volta completate queste voci, avete concluso la compilazione dell'inserimento, basta cliccare su inserisci. Si ritorna alla pagina principale e se l'inserimento ha dato buon fine, come potete vedere, vi compare un messaggio in verde di conferma in testa alla pagina. A questo punto si possono inserire i titoli culturali di servizio che vi consentono di avere maggior punteggio nelle gradatorie. Per farlo basta cliccare su azioni disponibili in corrispondenza di tale voce e poi su accedi. Su questa sezione faccio alcune premesse. Chi sta effettuando l'aggiornamento avrà già inserito in passato alcuni titoli. Questi titoli rimangono conservati, di conseguenza non dovranno essere nuovamente dichiarati. Bisognerà dichiarare solamente i nuovi titoli, sia che siano culturali, sia che siano di servizio. Altra premessa. Ricordo che la domanda funge da autocertificazione, di conseguenza bisogna prestare attenzione ai titoli che si inseriscono. Devono corrispondere esattamente al vero. Ricordo infine che si possono dichiarare tutti i titoli, sia culturali che di servizio, conseguiti entro la data del 18 maggio, termine ultimo di presentazione della domanda. Quindi eventuali titoli, sia culturali che di servizio, conseguiti dopo tale data, non potranno inserirsi in questo aggiornamento. Lo si potrà fare in aggiornamenti successivi. Infine, vi ricordo che i titoli culturali valutabili non sono esattamente gli stessi per tutti i profili. Per sapere gli esatti titoli valutabili per ogni profilo e i relativi punteggi, basta consultare le tabelle allegate all'ordinanza ministeriale numero 21 del 2009. Procediamo ora all'inserimento dei titoli nel nostro esempio, quindi inserimento nel profilo di assistente amministrativo. Come primo titolo troviamo diploma di maturità, ma attenzione perché i titoli culturali che si possono inserire devono essere ulteriori rispetto a quello di accesso. Quindi, dato che abbiamo già inserito il diploma di maturità come titolo d'accesso, non possiamo inserire lo stesso diploma anche in questa sezione. Questa sezione va compilata se si possiedono altri diplomi di maturità, ulteriori rispetto a quello già dichiarato come titolo di accesso. Per quanto riguarda i titoli di laurea, ricordo che nel caso in cui si possieda una laurea triennale e una laurea specialistica magistrale, si valuta un solo titolo, quello di livello superiore. E quindi in questo caso non si compila il campo del diploma di laurea breve, si va a compilare direttamente quello della laurea specialistica magistrale, sempre cliccando su azioni disponibili e poi su inserisci. I campi da compilare sono gli stessi anche per le lauree vecchio ordinamento. Si clicca su aggiungi titolo e si seleziona per quali gradatori farlo valere. Se vi state solo inserendo, come in questo esempio, selezionerete titolo valido ai fini dell'inserimento. Se state aggiornando una precedente graduatoria, cliccherete su titolo valido ai fini dell'aggiornamento. Se invece vi state sia inserendo in una nuova gradatoria, sia aggiornando una precedente gradatoria, allora cliccherete titolo valido ai fini dell'inserimento barra aggiornamento. Dovrete poi indicare l'esatto titolo di laurea, mi ricordo che per quanto riguarda le lauree magistrali c'è anche un codice identificativo, e poi l'istituzione presso la quale il titolo è stato conseguito. Infine cliccate su inserisci. Si ritorna nella pagina precedente dove avete la possibilità di inserire altri titoli culturali, la compilazione è molto simile a quella che abbiamo appena fatto. In fondo alla pagina invece avete la possibilità di inserire i titoli di servizio. Molto importante è l'ultimo campo che vi permette di importare direttamente i servizi che avete svolto senza doverli digitare da capo. La penultima sezione invece riguarda l'inserimento di altri titoli che non si trovano nel fascicolo. Se vogliamo inserirne basta cliccare su azioni disponibili e poi su inserisci. Nella nuova pagina cliccate su aggiungi titolo e indicate se questo titolo è valido ai fini dell'accesso. Se selezionate sì dovete anche specificare il profilo del servizio per cui è utile ai fini dell'accesso, quindi in questo caso si sente amministrativo. E dovrete anche indicare se è valido ai fini dell'inserimento, dell'aggiornamento oppure entrambi. In questo caso abbiamo detto fini dell'inserimento. Infine dovrete indicare il profilo in cui si è prestato il servizio. Supponiamo che sia stato prestato sempre per assistente amministrativo. Indicate il numero di ore. Vi ricordo che il punteggio non dipende dal numero di ore svolte ma dalla durata del contratto. Questa è una domanda che spesso viene posta. Dovete poi chiaramente indicare le date. Supponiamo che il contratto sia partito dal 1 settembre 2021 e sia terminato il 31 agosto 2022. Quindi l'anno scolastico in questo caso è 2021-2022. L'automatico vi calcola il numero dei mesi. Dovrete poi indicare l'istituzione scolastica in cui è stato prestato il servizio. Il tipo di servizio, se è stato prevastato in scuole statali, non statali o in altre amministrazioni pubbliche. Ricordo infatti che si possono valutare anche i servizi prestati in altre amministrazioni pubbliche. Naturalmente con un punteggio differente. Dovete poi indicare l'indirizzo e il comune della scuola. E se durante quell'anno scolastico avete avuto dei periodi di aspettativa non retribuita, non essendo valida ai fini giuridici, dovrete indicarla in questi campi. Se avete concluso, potete inserire un nuovo titolo cliccando su Aggiungi titolo oppure inserirlo successivamente e cliccare per il momento su Inserisci. Cliccando in fondo su Indietro si ritorna alla pagina principale dove si ha la possibilità di compilare altri campi, fra questi ad esempio quello dei titoli di preferenza. Molto importante perché è quello che ci permette di indicare alcuni titoli preferenziali che si possono utilizzare nei casi in cui si sia a parità di punteggio con altri candidati. Per inserirli basta cliccare come al solito su Azioni disponibili e poi su Inserisci. Le prime preferenze sono molto rare. Le più comuni sono la lettera Q, l'aver prestato servizio per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione. Le parole prestato lodevole servizio non devono preoccupare. Il decreto ministeriale numero 50 del 2021 ha specificato che si intendono solamente le persone che non sono state oggetto di sanzioni disciplinari. Altra lettera molto tipica è la R per coloro che hanno figli e bisogna indicare il numero specifico di figli. Ancora un'altra voce che viene spesso barrata è l'ultima che riguarda coloro che hanno prestato servizio alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni differenti dalla scuola. Una volta completata la sezione, cliccate su Inserisci. Fra gli altri campi compilabili abbiamo quello dei titoli di riserva che riguarda alcune specifiche categorie, in particolare coloro che usufruiscono della legge numero 68 del 1999. Se non rientrate in nessuna di queste categorie, cliccate su Indietro e lasciate la sezione in bianco. Tra le possibili sezioni da compilare vi è anche il modello F che è per coloro che vogliono entrare nelle gradatorie data 24 mesi esclusivamente per la possibilità di un contratto a tempo indeterminato e vogliano rinunciare alla possibilità di avere supplenze. Quindi attenzione perché compilando questa sezione dichiarate di non volere supplenze e quindi non vi convocheranno. Il modello H invece è per coloro che usufruiscono della legge 104. Per compilarlo, come al solito, basta cliccare su Azioni disponibili e poi su Inserisci. Le prime due voci riguardano una disabilità personale, le altre invece una disabilità che riguarda familiari. Dopo aver completato tutti i campi, attenzione perché in questa sezione è necessario allegare un certificato che contenga tutte le informazioni sopra dichiarate. Non è sufficiente l'autocertificazione. Una volta completati tutti i campi, basta poi cliccare su Inserisci. Infine, l'ultima sezione da compilare è quella delle altre dichiarazioni che, a differenza delle ultime sezioni che abbiamo analizzato, è obbligatoria. In questa sezione dovete compilare alcuni campi riguardanti i vostri dati personali, come la cittadinanza, l'iscrizione alle liste elettorali, indicando anche la provincia e il comune. Eventuali anche informazioni su condanne o procedimenti penali. Dovete poi dichiarare obbligatoriamente di non avere prodotto domanda, aggiornamento e inserimento in altre province per i medesimi profili e di non essere presenti nelle gradatorie permanenti in una provincia diversa da quella richiesta. Ancora, obbligatoriamente dovete dichiarare di avere l'idoneità fisica, l'autorizzazione, il trattamento dati per il dirigente preposto e il trattamento dei dati personali. Una volta conclusa la compilazione, cliccate su Inserisci. Quando avete concluso la compilazione di tutti i campi, vi consiglio di cliccare qui in alto a destra su PDF domanda in bozza per visualizzare la bozza della domanda in PDF, in modo da avere un riepilogo, controllare che sia stato inserito tutto ciò che vorreste inserire. Se dovete effettuare qualche modifica, potete farlo in qualsiasi momento. Vi ricordo infatti che ogni compilazione viene salvata automaticamente e si può modificare in qualsiasi momento, chiaramente entro la scadenza del 18 maggio. Quando siete pronti a inviare la domanda, andate in fondo e cliccate su Inoltra. Vi consiglio di non aspettare il 18 maggio per farlo, per evitare che eventuali problemi tecnici vi impediscano di inoltrare la domanda. Se avete bisogno di altre informazioni, vi ricordo che potete trovarle in altri video pubblicati sul canale YouTube di Orizzonte Scuola e chiaramente sul sito web www.orizzontescuola.it.